Una squadra con le caratteristiche inglesi, quindi di ritmo, di intensità, di fisicità, di qualità e con tatticamente dei dettami ancora più precisi. E quindi è una sfida difficile, ma inevitabile che sia così per un ottavo di Champions League. Conte è un grande allenatore, è uno dei pochi miei colleghi che mi ha chiamato per congratularmi per la vittoria di Scudetto e questo l'ho apprezzato tanto. È vero che tutti conoscono i grandi giocatori di tutte le squadre al mondo e loro sono due grandi nomi, ma come io e anche abbiamo giocato prima con squadre che avevamo di grandi giocatori, saremo pronti e io spero sempre di giocare con questo tipo di giocatori forti e così che vedi il tuo livello. Grazie. Grazie.